Cosa succederebbe se qualcuno potesse leggere i tuoi messaggi e ascoltare le tue chiamate? E tutto questo senza che tu lo sappia. È accaduto davvero a giornalisti, attivisti e persino a operatori umanitari. Paragon Solution è un'azienda israeliana fondata nel 2019 da ex membri dei servizi segreti. Sviluppa e vende i suoi prodotti esclusivamente ai governi, dichiarando di lavorare solo con governi democratici e per scopi legittimi. Un gruppo di ricercatori del Citizen Lab è riuscito a collegare lo spyware Graphite proprio all'azienda Paragon. Questi malware, una volta entrati nel dispositivo della vittima, devono comunicare con un server di comando e controllo. Semplificando, possiamo dire che è come un computer controllato dagli hackerini che dà istruzioni, riceve i dati rubati o invia aggiornamenti. Di solito, per proteggere le informazioni scambiate tra il server e un qualsiasi dispositivo, si usa una connessione sicura. In pratica, i dati vengono trasformati in un messaggio in codice, così nessuno può leggerli o cambiarli mentre viaggiano. Per essere sicuri che la connessione sia davvero sicura e affidabile, si usano dei certificati digitali. Nel caso dei malware, questi certificati vengono usati nello stesso modo per far sembrare le comunicazioni normali e sicure, in modo da ingannare antivirus e sistemi di sicurezza. Essendo cifrate, inoltre, non si può vedere cosa viene davvero trasmesso. Ed è proprio da questi certificati che è partito il sospetto su Graphite. Grazie a tutti.